Dobbiamo senz'altro precisare che chiamiamo comunemente influenza molte malattie virali o batteriche, comunque respiratorie, che ci colpiscono durante i mesi invernali, che però di fatto non sono influenza, ovvero non sono causate dall'infezione con virus influenzali. L'influenza, quella vera, è causata dal virus influenzale, dai virus influenzali, i virus influenzali di tipo A e di tipo B. Ovviamente il vaccino anti-influenzale protegge nei confronti di questi virus e di conseguenza ci proteggerà nei confronti della vera influenza, quella causata dai virus influenzali, ma non ha nessun tipo di efficacia nei confronti di tutte quelle che sono delle false influenze, ovvero quelle infezioni respiratorie, molto frequenti nel periodo invernale, che sono causate da altri batteri, da altri virus.